Ciao, sono Mattia e grazie al Corpo Europeo di Solidarietà sto lavorando a Torino su un programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Francia chiamato Interreg Alcotra. Quest'anno ci sono le elezioni europee a maggio ed è importante andare a votare per un'Europa che sia più attenta ai territori e ai loro bisogni specifici. Per questo stavolta voto per un'Europa con più cooperazione e integrazione. Grazie a tutti.